Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul canale dello spazio dei Laziali Allora, sorteggi di Champions e la Lazio è andata molto molto bene sono molto contento delle squadre che abbiamo preso e che affronteremo in Champions in questo campionato la sorte ci ha assistito questa volta e abbiamo affrontato, abbiamo preso l'unica squadra diciamo più debole sulla carta dell'urla 1 della prima fascia che è il Feyenoord, poi la seconda fascia abbiamo abbeccato l'Atletico Madrid e poi abbiamo abbeccato come in quarta fascia appunto il Celtic affrontiamo una squadra forte come l'Atletico Madrid ma era normale, in Champions affronti squadre importanti prima o dopo l'affronterai comunque, è meglio comunque arrivarci prima preparati già affrontare una squadra importante come l'Atletico può darci veramente un grande grande aiuto sono molto contento, inizieremo questa nostra stagione in Champions dopo tre anni l'ultima edizione è stata del 2020-2021 con il Covid e avremo l'occasione appunto di vedere la Champions dallo stadio andrò anch'io allo stadio a vedere la Champions a Lazio in Champions e con il pubblico e con lo stadio completamente pieno mi auguro sperando che i prezzi siano accessibili anche se mi aspetto prezzi molto alti perché appunto è la Champions League come normale che sia comunque la Lazio ha anche ufficializzato guendosi mezz'ora fa la Lazio ha fatto un altro acquisto, il settimo acquisto di questa campagna estiva di calcio mercato comunque, poi ci parleremo anche guendosi allora, per quanto riguarda anche le altre italiane in Champions è andata abbastanza bene, anzi bene al Milan e all'Inter, male al Milan perché il Milan ha beccato il Borussia Dortmund, il Paris Saint-Germain e il Newcastle tre squadre molto forti sulla carta, il Milan comunque ha la rosa per poter competere competere ed anche riuscire a passare il girono di Champions fino all'ultima giornata appunto dei gironi di Champions di quest'anno per quanto riguarda l'Inter, ha preso il Benfica, ha preso il Porto però comunque l'Inter ha la rosa e la squadra per poter passare il girone per primo il Napoli da testa di serie gli è andata molto bene ma lo sapevamo anzi molto bene no perché ha beccato il Real Madrid, ha beccato la peggiore squadra dell'urna numero 2 e quindi in quel caso però il Napoli secondo me se fa il Napoli può magari non perdere punti con il Real Madrid questo potrebbe essere vero che magari se la giocherà sicuramente con il Real Madrid e arriverà al primo o secondo, non si sa chi la vincerà, chi la spunterà nel girone tra Napoli e Real ma comunque il Napoli ha tutte le carte in regola per poter competere e poter battere anche la Madrid per quanto riguarda la nostra squadra io sono molto contento di questo girone e speriamo di iniziare bene il girone e di non entrare in campo per esempio contro il Feyenoord o contro il Celtic che sulla carta sono più scarse della Lazio ma bisogna entrare in campo con la giusta mentalità, una sana cattiveria come un campionato che abbiamo iniziato male e dovrà essere così anche in Champions e niente, questo è un breve video ma sono, volevo appunto parlare di questo il giorno era molto atteso della Champions quindi niente, per quanto riguarda il video di Guendosi lo farò domani che parlerò di Guendosi che è stato appunto annunciato mezz'ora fa dalla società sportiva Lazio un acquisto appunto in prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni di euro detto questo, un girone importante, ci vediamo sabato sera nel post partita di Napoli-Lazio e niente, sempre Forza Lazio, bentornata, Champions League, ciao ragazzi e buona serata